Ciao dal MUFA, il museo delle farfalle e delle falene. Oggi parleremo di farfalle velenose, uno degli argomenti che ha sempre attirato di più i nostri visitatori. Qui abbiamo degli ottimi esempi che vi ho preparato, sono quindi esemplari di specie velenose. Ma chiariamo subito una cosa, le farfalle velenose non sono assolutamente pericolose per noi, quindi non abbiate paura. È un veleno rivolto verso gli uccelli che sono i principali predatori delle farfalle diurna. Questi animali possiedono all'interno del loro corpo, del loro tessuto, dell'emolinfa, che è il loro sangue, delle sostanze tossiche e questi veleni vengono assimilati dalle piante di cui i bruchi si nutrono. In altri casi però le farfalle velenose sintetizzano ex novo le sostanze tossiche, che sono sostanze che loro producono senza assimilarle dall'ambiente circostante. Le farfalle velenose non devono essere letali neanche per gli uccelli, perché giocano sull'apprendimento di questi animali. Adesso vi spiego come funziona. Uno dei modi per riconoscere le farfalle velenose è il loro colore, perché le farfalle appunto tossiche vogliono farsi riconoscere come tali e quindi esibiscono dei colori vistosi, chiamati appunto di avvertimento, colori aposematici. Qui abbiamo un bellissimo esempio. I colori più diffusi tra le farfalle velenose sono il giallo e il nero, che è un colore che ben si nota in un ambiente per lo più verde come una foresta. Questa è una dottroides asiatica, una delle più grandi farfalle velenose. Come vedete, il colore giallo si vede molto bene anche perché viene contrastato dei disegni neri, che spesso servono proprio a evidenziare gli altri colori. Un altro colore molto diffuso nelle farfalle velenose è il rosso. In questo caso abbiamo un parides del centro America che esibisce questo rosso e nero che nell'ambiente in cui vive indica proprio che si tratta di una farfalla velenosa. In realtà noi già conosciamo animali velenosi per difesa che esibiscono questi colori. Pensiamo alle api e le vespe e anche le coccinelle sono velenose e possiedono la coccinellina, non è uno scherzo, che è una sostanza tossica ma più che altro lo è per gli uccelli insettivoli. Nell'uomo tropicale si è visto che in alcune aree le specie velenose non sono necessariamente gialle nere o rosse nere, ma possono avere anche altri colori. E qui abbiamo alcuni esempi. Questa è la famosa farfalla idea, una delle specie più comuni all'interno delle nostre serre, viene dal sud-est asiatico ed è una tipica specie velenosa. Qui abbiamo una creide africano, e qui un'euplea sempre asiatica. Sono tutte specie velenose. Se voi vedete una di queste farfalle volare noterete che sono molto lente, devono lasciare il tempo ai predatori di riconoscerle. Perché? Perché come dicevo prima questa strategia funziona grazie all'apprendimento degli uccelli che imparano appunto, dopo averne assaggiata qualcuna, ad evitare queste specie. E le riconoscono appunto dal colore, ma anche dal loro modo di volare, lento, cosiddetto vessillare. Si devono far vedere. Sono farfalle esibizioniste, ovviamente per difendersi. Un'altra differenza che si può notare in molte specie velenose è che sono molto resistenti. Hanno un corpo, come tutti gli insetti, è rivestito da un esoscherzo, da una corazza di chitina. Ma in molte specie velenose è estremamente elastico per resistere ad essere masticate dal predatore. Quindi quando un uccello cattura un'idea, l'assaggia e dopo di che si rende conto che è un animale che è meglio rigettare a causa appunto del sapore. Quindi questi animali devono essere anche in grado di sopravvivere al fatto di essere masticati, poi sputati, da un eventuale predatore. Adesso vi ho insegnato come riconoscere le farfalle, le specie velenose, da quelle non velenose. In realtà c'è un fatto che complica un po' la cosa. Cioè esistono tantissime specie di farfalle che in realtà non sono velenose, ma fingono di esserlo. Ma di questo ne parleremo una delle prossime puntate. Intanto vi saluto, vi ringrazio di averci seguito e ciao dal Muffa. Con tre F. Grazie a tutti. Grazie a tutti.